Jin Kazama, la tua forza non basta per sconfiggere quel demone. Ascoltami, devi seguire le parole di Zafina. È importante che tu torni all'origine. Jin, o maiには o mai da che non nasceroこと ma al. Kimi wa mou hitori ja nai, wale wale ni mo hana o motasete kureta mani. Vakata. Ado un tomo. Excellent. Jin, iko! Taku sa leta kibou,決して muda ni ha shigai. Musica Ora inizierò il rituale per esorcizzare il demone Rilascio del sigillo Cioè, 괜찮지만 godurro chuce Rilascio del sigillo 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 ... 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 I ... ... ... Ho provato a usarti. Questa è la mia punizione. Ormai sono pronto da molto tempo. Tuttavia, non mi sacrificherò in vano. Jinkazama, adesso toccati. Alla prossima. Grazie a tutti. Grazie a tutti.